Torniamo a parlare di irrigazione perché abbiamo menzionato l'accordo che è stato siglato qui a Bologna nel corso di EIMA tra il gruppo Metzer e Farmfront. Abbiamo con noi Daniel Neves che è un responsabile di Farmfront. Sappiamo che il gruppo Metzer è un gruppo decisamente presente ma anche Farmfront è una realtà importante. Approfondiamo il tema dell'accordo? Grazie. Farmfront e Metzer è una partnership molto interessante. Farmfront è un'azienda con un cuore europeo molto forte, tra l'altro con un cuore italiano perché siamo con il nostro headquarter in Italia e noi siamo nati da un investimento fatto da un gruppo americano di investimenti che si chiama Carlisle. Loro hanno deciso di investire nel mondo dell'irrigazione per costruire Farmfront che è un gruppo di tanti marchi europei, quindi italiani, francesi, spagnoli, nel mondo della irrigazione meccanica, quindi i rotoloni, i pivot, le motopompe e questo è l'idea del primo anno di Farmfront. Però Farmfront è nata con una visione di essere in grado di offrire tutte le tecnologie di irrigazione e in questo momento è nata la partnership con Metzer. è in atto un cambiamento climatico, insomma è sotto gli occhi di tutti e qualche danno l'ha fatto anche l'uomo, ma questo è un altro discorso. Si dovrà continuare a lavorare, a trovare innovazione tecnologica anche per risparmiare quelle che sono le risorse idriche? è correttissimo questo che dici tu, il mondo dell'irrigazione deve adattarsi alla nuova realtà del mondo. Il mondo dell'irrigazione prima era molto focalizzato sulla singola tecnologia che ogni azienda faceva, invece noi dobbiamo adattarsi alla singola realtà di ogni singolo agricoltore, capire che ogni singolo agricoltore avrà un fabbisogno diverso, di un sistema di irrigazione diverso da quello che faceva prima, ma che fa cura non solo dell'acqua ma dei concimi, di tutto quello che utilizza e che va utilizzato nel sistema di irrigazione. Se lo facciamo bene il mondo ringrazierà tanto per i prossimi anni. Come riuscite ad essere operativi? Com'è che andate a capire quali sono le esigenze proprie dell'agricoltore? Siete voi che raggiungete chi utilizza poi il prodotto finale? E questa è la bellezza della nostra partnership, perché noi prima dobbiamo chiedere all'agricoltore qual è il problema che dobbiamo risolvere con l'irrigazione, invece di offrirle quello che vendiamo noi. Quindi quello cambia la forma, quindi invece che io gli spiego cosa io posso fare, io prima devo capire cosa lui ha bisogno. Quindi questo cambia molto la forma di vendere il sistema di irrigazione, di capire cosa veramente ha bisogno l'agricoltore e poi offrire ai nostri dealer, perché poi tutti noi lavoriamo con i dealer, con l'istributore, non lavoriamo direttamente in azienda agricola. Quindi i nostri dealer offriranno loro gli strumenti per offrire all'agricoltore la soluzione giusta, indipendente di quello che produciamo o no. E' chiaro che insomma le differenze sono tante, se pensiamo a un vigneto c'è un'esigenza idrica, ma se pensiamo a una grande estensione di mai ce n'è un'altra. E' bellissimo, no? E poi parliamo Italia, è diverso della Francia, che è diverso del Kazakhstan, che è diverso del Cile, quindi ogni paese, anche se parliamo zone specifica, ci sono zone che è più pioggia, meno pioggia, più acqua, meno acqua, acqua di più qualità, meno qualità, su tutti questi sono soluzioni dove l'irrigazione, avendo molte tecnologie, è in grado di risolvere il problema. Grazie allora Daniel Neves, che è un responsabile di Farafront. Siamo tornati a parlare del tema dell'irrigazione, ma lo faremo ancora, qui dagli studi di EimaWebTV.